Dopo anni di proteste da parte dei residenti della centralissima via Stazio a Teramo, l'amministrazione comunale ha deciso la rimozione della copertura in legno e ferro, particolarmente impattante, che ha tenuto prigioniere quattro famiglie dal 2017. La struttura si era resa necessaria per permettere la messa in sicurezza dell'antico Palazzo Braga e della chiesa di San Giovanni, ma le sue dimensioni hanno creato in questi anni degrado, sporcizia e difficoltà alla circolazione stradale, a causa anche della parziale pedonalizzazione della via. Oggi però si torna alla normalità. Oggi finalmente restituiamo a questa via una sua dignità, rimuovendo ovviamente la messa in sicurezza sbagliata che fu approvata anni fa e grazie al lavoro anche della protezione civile regionale, con la sua disponibilità riusciamo a restituire decoro e dignità, ovviamente facendo un passaggio che non è quello definitivo, perché ovviamente questa via, questa strada, via Stazio, sarà interessata ovviamente anche ad un intervento di manutenzione con il lavoro dell'assessore di Buonaventura, in un contesto nel quale appunto stiamo lavorando alacremente per il recupero attraverso il percorso di ricostruzione del Braga e soprattutto stiamo imprimendo un'accelerazione forte, importante, alla riqualificazione complessiva, non la cosiddetta pezza, del mercato coperto e di Piazza Verdi. Via Stazio è una via dell'antico quartiere terramano di Santa Maria Abitetto, dove insistono palazzi, monumenti e chiese importanti, come il Teatro Romano, il Conservatorio Braga, col suo chiostro medioevale, e San Giovanni. La sua futura riqualificazione rappresenta il cuore del progetto di Teramo Città Capoluogo. Che tempi prevede? I tempi con l'edilizia e con i lavori pubblici, dopo un anno da assessore lavori pubblici ho imparato a non darli, perché non dipendono direttamente dalla volontà dell'amministrazione comunale che domani mattina avrebbe voluto aprire già il cantiere, ma dipendono da tanti fattori. Però i tempi sono scanditi e credo che nel giro di pochissimi mesi riusciremo sicuramente a dare un nuovo volto a questo quartiere, che già così, con il recupero del rudere di Via Muzzi, adesso l'eliminazione del sottopasso pedonale, che rappresentava un'ostruzione non solo alla viabilità, ma anche un decoro inadeguato per la nostra città, siamo piano piano recuperando il tempo perso.